Dal 1 febbraio i Mugesani potranno finalmente contare su un nuovo punto di riferimento nella loro città, un nuovo ufficio commerciale aperto da Est Energy assieme ad Ace Gas APS MGA in Piazza Galileo Galilei nel quale potranno ricevere assistenza per il servizio idrico e al contempo svolgere tutte le pratiche relative al gas metano e all'energia elettrica. Siamo dietro l'angolo, recita la campagna di informazione ideata per comunicare la nuova apertura perché la volontà delle aziende è di avvicinarsi ai Mugesani, soprattutto a coloro che incontrano difficoltà nel recarsi a Trieste o nell'accedere ai servizi tramite il call center o internet. L'apertura di un nuovo ufficio a Muggia, dichiara Albino Belli, amministratore delegato di Est Energy, a disposizione anche degli abitanti delle frazioni, si inserisce all'interno della nostra strategia di potenziamento dei canali di comunicazione con il cliente, non soltanto di quelli a distanza come web e call center, ma anche di quelli fisici perché siamo consapevoli che gli sportelli restano il punto di contatto più importante per i clienti. Ci auguriamo che sempre più cittadini apprezzino il valore aggiunto dei nostri servizi in termini di accessibilità e qualità. Il bacino di riferimento del nuovo ufficio è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle aziende di Muggia e frazioni Limitrfe, un vasto territorio con oltre 15.000 abitanti a cui si è voluto offrire un punto di contatto vicino e facilmente raggiungibile per la gestione delle proprie utenze. A Muggia abbiamo deciso di replicare l'esperienza vincente degli altri territori cui è presente Acegassa PSMGA, abbinando la nostra presenza a quella di Est Energy, spiega Cesare Pillon, amministratore delegato di Acegassa PSMGA. In questo modo siamo in grado di offrire al cittadino un punto di riferimento unico per una molteplicità di servizi essenziali, potendo contare sulla sinergia e la collaborazione di una realtà Est Energy che condivide la nostra stessa attitudine verso un servizio eccellente al cliente. Il taglio del nastro avverrà sabato 30 gennaio alle 12 in piazza Galileo Galilei 2 alla presenza delle autorità e dei rappresentanti di Est Energy e Acegassa PSMGA. Per tutti ed in particolare per i più piccoli dalle 11 si terrà lo spettacolo di strada Il Volo Transoceanico di Lindenberg, con la compagnia del Teatro Incontro di Trieste, PIS divertente e coinvolgente con filastroche ed invenzioni scenografiche, in cui Cori e Fisarmonica si alterneranno per raccontare l'avventura di Charles Lindenberg ed il suo monoplano, i primi a riuscire a volare oltre l'Atlantico nel 1923.